Noi abbiamo valutato che quel luogo è un luogo oltre che simbolico, molto rappresentativo anche di un momento storico nel quale l'agricoltura era al centro delle attività economiche del nostro comune, quindi è un luogo che rappresenta un po' la centralità, un luogo di raccolta, un luogo nel quale convergono e nel tempo hanno fatto convergenza le risorse del nostro mondo rurale, delle nostre campagne eccetera. Quindi questo è un valore che è particolarmente rappresentativo. L'ubicazione è particolare, strategica perché è nei pressi del ponte medievale a schiena d'asino, quindi ci sarebbe la possibilità anche di recuperare quello spazio dal punto di vista estetico, dal punto di vista storico architettonico. E in più legato un po' a questo momento molto favorevole grazie all'iniziativa dei nostri imprenditori locali nel settore della birra, anche dell'acqua minerale, per cui ci sarebbero forse le opportunità legate anche a questa fase nella quale il nostro governo ha stretto con l'Europa questo patto per il trasferimento di fondi comunitari che potranno permettere la realizzazione di progetti importanti anche nell'ambito della strategia nazionale delle aree interne. Vi possono essere opportunità di finanziamento e ci è sembrato opportuno approfondire queste ipotesi. Abbiamo descritto questo progetto come Alohub, in pratica un punto, un polo di interconnessione per quanto riguarda tutto ciò che ruota intorno al settore della birra artigianale. Quindi dal punto di vista della ricerca, della sperimentazione anche di ricette, che passa per il coinvolgimento ovviamente dei birrifici, delle aziende, quindi attività di formazione, attività di sperimentazione, non escludendo l'acquisto di un microimpianto che potrebbe consentire appunto delle elaborazioni, delle prove, dei campionamenti eccetera. Quindi poi magari sperimentare anche alcune culture grazie anche all'attività che i nostri imprenditori agricoli stanno portando avanti per esempio nel settore biologico eccetera. Però cercare di realizzare perché no anche una birra chilometri zero e quindi ecco in questo settore vi sono sicuramente tante idee che possono svilupparsi. L'altro progetto dicevo che si affianca a questo primo relativo alla birra lo abbiamo chiamato S-Super ed è in pratica l'idea di realizzare un piccolo laboratorio di ricerca, di ricerca e sviluppo, con anche mezzi e attrezzature adeguate per la prototipazione rapida eccetera da mettere un po' a disposizione attraverso il coinvolgimento di giovani professionisti alle imprese artigiane di Apecchio e non solo. Accanto a questa idea ce n'è un'altra, gli abitanti in particolare di Apecchio sanno che ci accingiamo a trasferire le scuole e che tutti gli alunni, tutti i ragazzi delle scuole di Apecchio, Serravalla è un'altra scuola distaccata che fa parte sempre dello stesso istituto, si troveranno tutti in uno stesso edificio che è stato messo a norma e in sicurezza. E verrà liberato l'attuale flesso della scuola elementare sul quale vi sono delle ipotesi per anche corsi di studio successivi al diploma agrario che potrebbero anche questi rientrare nel settore della birra artigianale. Abbiamo già presentato due volte il progetto sia in provincia che in regione. Quindi avere un luogo, per tornare al tema iniziale, avere un luogo che possa fare da connettore, da punto di riferimento per sviluppare tutta questa serie di attività, ci sembrava proprio un'occasione da non perdere.